Con due sopre cerimonie sono state intitolate a Giuseppe Nusdeo, fondatore dell'Admo Regione Calabria, due aule dell'Istituto Superiore di Istruzione Pasquale Gallupi di Tropea. In entrambe le occasioni i soci Admo hanno creato momenti di informazione su quello che fa l'associazione e come eventualmente diventare donatore di midollo osseo. Ma il lavoro di sensibilizzazione era già cominciato da tempo. Infatti gli alunni del liceo scientifico e dell'alberghiero di Tropea erano già a conoscenza delle problematiche che le patologie neoplastiche comportano e dell'importanza della donazione per ridare una speranza a tutte quelle persone che soffrono di malattie come i tumori del sangue, come le leucemie, i linfomi, il mieloma, ma anche patologie non oncologiche come l'aplasia midollare e le mielodisplasie. Qui alunni e professori hanno deciso di intitolare al piccolo Giuseppe Nusdeo il laboratorio di informatica. Anche al liceo classico l'aula scelta è stata quella di informatica, perché quando Giuseppe scoprì di essere malato e quindi di non aver più la possibilità di frequentare come prima i suoi amici, imparò ad usare molto bene il computer, che per molti mesi è stato l'unico compagno che gli permetteva di comunicare con il mondo. I ragazzi del liceo hanno anche chiesto di essere punti di riferimento per l'informazione e per le attività atbo della zona di Tropea. A conclusione della bella mattinata, Laura Manno, in rappresentanza dell'ufficio scolastico di Vibo Valenza, ha annunciato che i prossimi campionati provinciali dello sport saranno dedicati a Giuseppe Nusdeo e la finale si svolgerà il 18 aprile, proprio il giorno del suo compleanno.